L'autunno è duro, si prevede tale anche dal punto di vista sindacale, si riapre anche qualche avvertenza che sembrava risolta, così come quella della ex Yokohama, adesso Alfa Gomma di Ortona, i 26 lavoratori che sono rimasti sono ancora a rischio. Ieri c'è stato un incontro in comune con i sindacati e con l'azienda soprattutto, all'indomani il clima è di grande preoccupazione, lo cogliamo insieme nel collegamento che stiamo per realizzare con il nostro Massimo Profeta che si trova proprio davanti ai cancelli dell'Alfa Gomma di Ortona. Buon pomeriggio Massimo. Sì, grazie, grazie Carmine, un saluto a te e a tutti gli amici di Visione dell'Ascolto, siamo davanti allo stabilimento Alfa Gomma di Ortona, avvertenza lavoratorio, avvertenza molto importante in compagnia del sindaco Leo Castiglione che naturalmente ringraziamo per la sua presenza. Sindaco, subito una domanda perché ieri il vertice importante doveva dare, avrebbe dovuto dare delle risposte che invece non ci sono state, c'è tanta delusione. Sì, ci aspettavamo qualche segnale da parte dell'azienda che purtroppo non è arrivata, certamente comprendiamo il periodo di crisi, quello che si sta vivendo a livello mondiale, però a fronte anche di investimenti che l'azienda sta portando avanti, a dire appunto dei referenti che ieri sono stati presenti all'incontro, ci saremmo aspettati anche qualche segnale a livello occupazionale. Abbiamo solamente 16 contratti a tempo indeterminato, 34 che scadranno a dicembre, 4 che scadranno a settembre, più 12 dipendenti mai richiamati. Questa è una situazione che ci preoccupa, io ringrazio anche le sigre sindacali che hanno sollecitato l'incontro di ieri con la regione che si è fatta portavoce anche di un'azione che adesso sarà conseguente appunto all'incontro di ieri. Certamente ci aspettavamo qualcosa in più, ma vigileremo e saremo attenti anche a quelle che sono state le dichiarazioni dell'azienda in termini di progetti, di sviluppo, di crescita dell'azienda stessa. Alle parole vogliamo tutti quanti che seguano i fatti. Assolutamente, Ettore Di Natale, Femca Cisle, c'è tanta delusione, abbiamo detto, della premessa che perché gli accordi che erano stati presi con l'azienda sono stati disattesi letteralmente. Assolutamente sì, sono stati disattesi da parte dell'azienda, il piano industriale non è stato rispettato, diciamo, per gli impegni presi sia per quanto riguarda gli start-up, le tipologie di produzione che devono arrivare su questo sito, sia per quanto riguarda il numero degli addetti che devono trovare occupazione entro un anno, questo ci preoccupa. Noi nell'incontro di ieri abbiamo chiesto all'azienda garanzie perché ormai i contratti stanno in scadenza, a fine dicembre avremo tutti i lavoratori fuori dalla Naspi. Termina la disoccupazione? Assolutamente sì, senza contare che tra questi lavoratori abbiamo 14 lavoratori che nell'arco dei due anni non sono stati mai chiamati, quindi la cosa è seria, noi con senso di responsabilità abbiamo capito anche dei ritardi in passato, perché qualcuno ci potrebbe dire come mai alla scadenza, in due anni il sindacato si fa vedere, non è questo, ci sono stati problemi, sono stati pazienti, però l'alfagomma ieri non ha dato assolutamente un minimo di garanzie. L'unica garanzia che ha dato, che non trovano un riscontro da parte nostra positivo, perché loro hanno detto che potranno mantenere gli impegni legati al mercato, ma il mercato è un qualcosa che va oltre le buone volontà che tutti quanti noi possiamo avere. Loro devono mantenere gli impegni perché francamente hanno preso lo stabilimento a un prezzo politico basso e l'impegno era quello di riassumere i lavoratori ex Yokoam, quindi le cose vanno onorate. Ergo Carlo Petaccia della Filctem CGL, state pensando di adire le vie legali? Allora noi, per non ripetere ciò che ha detto il sindaco, che ringrazio l'ettore, noi oggi stiamo nella situazione che chiediamo ufficialmente, come abbiamo fatto ieri, alla regione Bruzzo, se c'è bisogno anche del Ministero per capire se questa azienda, una volta firmato l'accordo, perché è giusto ricordare che questo accordo è stato siglato perché ci buttavano le garanzie migliori, questa azienda ha promesso e ha scritto su un piano industriale che riassumevano 153 persone, a noi bastano che rientrano gli ex Yokoam e non per fare differenze con gli altri, perché questo è, quindi noi agiremo in tutte le istanze, anche se c'è bisogno delle vie legali, non c'è ombra di dubbio, ma la politica, e lo dico anche apertamente, visto che stiamo tutti quanti in campagna elettorale, a tutti i politici candidati, che un imprenditore non può venire qua a fare delle promesse, sottoscrive degli accordi e non viene rispettato, questo non è accettabile, questa è una cosa che va esclusa e quindi noi faremo di tutto affinché si risolva, o con il lavoro che è la prima cosa che ci interessa, o se no con altri strumenti, però bisogna sedersi dal tavolo e responsabilmente tutti, come abbiamo sempre fatto, andiamo davanti, altrimenti ognuno è libero di agire come meglio ritiene. Chiarissimo e saustivo, grazie a Carlo Petaccia, grazie a Ettore Di Natale, grazie soprattutto al sindaco di Ortona, Leo Castiglione, ringrazio anche Diego Martelli, se non ci sono domande da studio, la linea può tornare a te Carmelo. Grazie, grazie Massimo, grazie ai tuoi ospiti.